La SSC Napoli, dopo Lindstrom, si appresta a cedere anche Leo Ostigar Il difensore ex Genoa è in trattativa con il Ren per il trasferimento a titolo definitivo su una base di circa 7 milioni di euro, cifra già accettata dal club azzurro a cui deve seguito l'ok da parte del giocatore. Ad oggi, infatti, il sì definitivo del calciatore non è ancora arrivato anche se sembra esserci ottimismo circa il buon esito della trattativa. Intanto, il difensore azzurro non sarà rimpiazzato da un nuovo innesto come rivelato dalla stessa società azzurra con un comunicato ufficiale, comunicato ufficiale SSC Napoli, nessun interesse per Mario Hermoso, anche con la cessione di Ostigar non ci saranno nuovi interventi nel reparto difensivo? Tutto sport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Buongiorno e Marin. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli, scrive il sito ufficiale partenopeo circa l'interesse del club azzurro per l'ex difensore dell'Atletico Madrid su cui sarebbe forte anche un altro club italiano, il Milan di Zlatan Ibrahimovic. Grazie!